Noi non abbiamo cambiato niente, abbiamo trovato un gran gol, abbiamo meritato il vantaggio il primo tempo e stavamo continuando a giocare nel secondo. Purtroppo al settimo minuto c'è stato un episodio strano dove con maggiore attenzione e comunicazione sicuramente il gol non si prende. Io penso che il riassunto della partita è stato indirizzato dagli episodi e da alcuni errori di crescita, di gioventù che noi facciamo. Però la prestazione dei ragazzi è stata una prestazione importante. Sicuramente se uno dice il primo tempo bene e il secondo no, abbiamo solo commesso noi degli errori che nel primo non abbiamo commesso ma non abbiamo cambiato assolutamente nulla nell'atteggiamento, nel modo di fare. Il Taranto ha trovato al settimo minuto il gol su rigore, un gol che a loro ha dato entusiasmo e a noi invece magari no. Però anche sull'uno pari c'eravamo lì, abbiamo fatto un'altra disattenzione dove potevamo tenere palla, subire il fallo e quindi ripartire noi. Non so sulla regolarità dei golli, ragazzi mi dicevano qualche cosa, però non so se c'era qualche fuorigioco, se il terzo addirittura forse la palla non è entrata. Però il riassunto di tutto è che la prestazione ancora una volta c'è stata contro la prima della classe e quindi abbiamo fatto una partita importante. Però dobbiamo eliminare assolutamente degli errori di una squadra giovane che purtroppo ancora commettiamo. Alcune situazioni sì, ma prendere quel gol lì, poi non mi piace parlare dei singoli perché qui noi vinciamo, pareggiamo e perdiamo tutti quanti insieme. Così come Nives ha fatto un gol importante, ripeto, con più comunicazione in generale, più lettura della palla, non solo da parte di Nives, ma io intendo sempre da parte di tutta la squadra, sicuramente quello è un gol che non si prende. E al settimo minuto far riaprire una partita al Taranto dopo che abbiamo dominato il primo tempo, vuol dire poi una squadra prima in classifica, che sicuramente ha dei valori importanti, abbiamo riaperto la partita a favore del Taranto. Non dovevamo sicuramente concedere quegli episodi che potevano permettere al Taranto di rientrare in partita, perché nel primo tempo sì, abbiamo anche concesso qualcosa, però abbiamo pressato alto, abbiamo tenuto il Taranto lì. Quindi anche il gol di Nives è un esempio di come la squadra attacca in avanti, di quello che dobbiamo fare, e che avremmo fatto sicuramente anche nel secondo tempo. Il Taranto nel secondo tempo ha sfruttato i nostri errori, è il rassunto, penso, più naturale di questa partita. La squadra gioca, non è che noi contro il Taranto nel primo tempo potevamo pensare di chiudere la partita 4-5 a 0, magari, se avessimo avuto la forza di farlo, non penso che i ragazzi si sarebbero tirati indietro. Noi nel primo tempo l'abbiamo giocato a vista aperto, così come anche il secondo, e nel primo tempo abbiamo concesso poco, anche se qualcosina l'avevamo concesso allo stesso al Taranto, dovevamo essere più attenti su alcune cose, però abbiamo trovato noi un grande gol e potevamo eventualmente trovarne anche altri. Però queste partite sono così equilibrate che poi possono essere decise da episodi. E noi dobbiamo essere più bravi, ripeto, visto l'ultimo periodo siamo stati bravissimi ad Andrea, siamo stati bravissimi a Gravina a livello di attenzione, un po' meno a Fasano, dove abbiamo fatto due gol e abbiamo commesso lo stesso due errori su due situazioni. Io l'unica cosa che dico è che se l'avversario è bravo a fare un gol come quello che ha fatto Nives, c'è solo da battere le mani. Se invece noi siamo poco attenti su alcune situazioni e concediamo, allora dobbiamo essere più bravi noi, più attenti noi, più concentrati noi. Quando si ha una squadra giovane alcuni errori ci stanno, io non li accetto sicuramente, nessuno li accetta per tutti i sacrifici che noi facciamo insieme ai ragazzi. I ragazzi devono crescere da questo punto di vista. Le partite ravvicinate possono sicuramente incidere su qualche cosa a livello di attenzione, però il riassunto poi è anche nei valori delle due squadre. Il Taranto se è primo in classifica un motivo ci sarà. Ottari ha avuto una piccola distorsione del ginocchio da valutare, quindi ha fatto un po' un movimento irregolare. Abbiamo perso anche un giocatore importante in mezzo al campo, in una partita importante, anche se Rotulo è entrato ed è entrato bene. Quindi tutti quanti i ragazzi danno il proprio contributo. Dobbiamo eliminare queste disattenzioni che poi spesso compromettono le partite, perché quando l'abbiamo fatto siamo stati attenti e abbiamo portato i punti a casa.